Buon pomeriggio a tutti ragazzi noi stiamo ancora con questo gioco bellissimo e mamma mia spero tanto che quel video di ieri vi sia tanto piaciuto e spero proprio di sì e noi useremo lui aspen è difficile qua il viola è il mio colore preferito il viola è nero, viola, verde e verde e noi useremo contro facciamo il punto interrogativo a deciderlo io no, vabbè, allora cambiamo il mio colore io no, non ho canso, ma l'orchezza no, ok, allora quadrato, triangolo, triangolo oppure quadrato, triangolo, quadrato, quadrato triangolo, triangolo poi quadrato, quadrato, quadrato poi quadrato, quadrato allora, triangolo, triangolo, triangolo Pseppi, blocco, quadrato, triangolo, quadrato quadrato, triangolo, triangolo, triangolo madonna, testa come mamma mia benissimo andiamo, andiamo provare e no, mi ha preso questi dannati sciuri eh mamma mia, ti piace il latte? bene e via dalle scusate scusate per il cane scusate per il cane madonna di morte e via all'escadale eh mamma mia ecco qui oh mamma eh mamma mia non ci lascio più non ci lascio più ma non ci lascio più più via di morte sta sfiga del cacchio sta entra parà e non te la porto più mamma mia ecco qua oh la vittoria è già completa già doveva essere questo lo scontro la vittoria cioè sì ho vinto comunque la vittoria però senza il pareggio ecco appunto dico semplicemente questo ecco ma che è là? ma che è questa cosa? ah ecco ma che cosa è? beh e facciamo un'altra mischia 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 tutto mischia tutto e faremo lui lo lo zucchero spacca ossa comunque verde sempre verde io raga e vediamo un po' contro chi andare e porco schiva allora allora squadra certo contro il principe cratino e chi andrà assieme contro il principe cratino e mamma mia allora è rosso due squadre contro e allora guarda no aspetta la facciamo così è giustamente più o meno e sta e la faremo qui anzi era meglio a casa mia ma che se ne frega quadrati triangolo quadrato quadrati triangolo triangolo e quadrato però io preferisco quadrati triangolo e quadrato perchè è il più bello che spacca meglio le ossa dei miei nemici peccato non il sangue ma almeno è qualcosa le ossa proprio tac 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 ti rumori e il cretino e mamma dammi il cestino ecco ci arriva questo panzone tutti contro tutti nessuno è amico di nessuno ma non immagino un po' di dio e mamma mia questi prosciutti vieni qua ssh 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 tu azzurretto vieni qui la nuvola bianca no? stanele che te do io sopra la cannecina fai attenzione alla sconeggia atomica madonna doppia mazzata ha fatto sconeggione madonna shrek è stato diventare il re e io non posso permettere una cosa del genere ecco 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 qua ecco qua ecco qua st d mamma mia mamma mia E via sto latte, sconeggio da mia, mi ha fatto la sconeggio, e questa era la mia, mi ha fatto la sconeggio. Chi ha vinto? Ah tutto pareggio, tutto pareggio, ah mo asci tu, vai Shrek, io ti fò, io ti fò Shrek, Shrek, vai Shrek, è una questione tra quei due, è solo una questione tra quei due, attento Shrek, nooo, ha vinto il cretino azzurro. E io sono il, almeno sono prima del cappuccetto rosso, e questo è il secondo tentativo, anche se tutti sono contro, e mamma mia, giacchetta, spacco le osce, e mortesci vostra, del vostro nonno. E via, 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 e via dalle scatole, e non me voglio, e via. E super mazzatebbe basso, mamma mia, il re sono io, il re sono io, e via dalle scatole, e mamma mia. Dovrei una buone, eh mamma mia, e via dalle scatole, mamma mia, super mazzata. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? E così impari. Mamma mia, sto azzurro. Bene qui, azzurro, come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? busch processo, chiedendo. Non avvicinatevi a lei. Così va meglio Ho vinto Mamma mia Che vittoria assurda Mamma mia E io sono lo sceriffo di tutti voi E Chi non dorme non piglia pesci Raga Chi dorme non piglia pesci E' certo E' logica come cosa Anche se la logica non è sincera Però Che c'è possiamo fare Mischia E' tutto da capo E noi useremo Sto Sto nero Sto nero gnomo Gnomo Oh io il nero Datemi il nero No Ma almeno il rosso sangue Contro chi Contro chi Mamma mia Cappuccetto rosso E ora la faremo Guarda così E via E la faremo Che saprete Qua Chi se ne frega Vedi un po' Scognometto qui Quadrato Quadrato Triangolo Triangolo Quadrato Quadrato Triangolo Quadrato Triangolo Triangolo Quadrato Triangolo Quadrato Quadrato Ma che è Tutte queste combo Tutte queste combo Le morti Goliere quadrato Cappuccetto rosso Madonna Io so il nero Cuba Io so il nero Io so il nero Ma dopo ci riesce con me Che sono Tutte Nyeee Madonna Sembra quasi il verso di Peter Griffin Che belle Le scadele Tutte Estanero Eh Che è Esta Cazzata Oh certo Un anno Per quanto lo gnomo e sia tanto trash ma riesco a fare più gumbo rispetto a cosa e via via no via 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 e via super gumbo power e spambi spambi stupide attenzione eeeh aaaah non mettete permesso eeeh 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 volevi è la vittoria la mia dello gnomo che l'italiano ormai affanculo perché non esiste più però siamo in America allora ci sta però questo è il doppiaggio italiano eh appunto che bisogna saper parlare bene l'italiano e bisogna anche pronunciare bene l'italiano eh madosca mia oh maledetto principe azzurro così no presente se vuoi vedere ma manco torato che fa ancora più cagare eh rosso va bene eh così va meglio però te prego cambiamo avversario a cavolo eh così e sai che ma un po' sta a cavolo ah così quadrato triangolo triangolo quadrato 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 triangolo e vai eh mamma mia tutte belle combo comunque mamma mia quello mio quanto so fare belle combo mamma mia mamma mia mamma mia che rosso più che azzurro principe rosso ma perché ma perché è sempre ma perché è sempre i tuoi versi fanno che azzurro che azzurro che azzurro che azzurro me non ti voglio azzurro 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 ah eccurro azzurro 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 ooo 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 o con no 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 ma l'ai detto lo si impari uuuu e vai con la droga divento un drogato gokenomane col principe azzurro uuuu che ha vinto ho vinto io mamma mia e il principe rosso cretino ho vinto eh mamma mia facciamo dai un'altra partita dai facciamo un'altra partita così almeno è mamma mia e io non devo usare lui per forza aspetta assieme anche un orco no così più o meno dai così mentre si sta a fare ma io però che qualcuno gli sta attorno cavole più cretino di così no aspetta mettiamo anzi mettiamo anzi sta cosa così 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 va meglio e la facciamo a papà e la facciamo a papà ah 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 e poi ah 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 tanto tanto ma non vedo l'ora di di fa' delle scoligie atomiche da paura non vedo l'ora non per davvero ma nel gioco così faccio le super mazzate nella prima compagnia nero hai capito è bella azzurro ah ah mamma mia questo azzurastro ah beccate mia pula ah 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 via 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 Senti tipo che scorreggio Super mazzata E l'ho fatta io Hai capito? Stongno 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 E vai con le super mazzate Eeeh Venite qui Mamma mia Sto azzurastro Che ho vinto? Ah io ho vinto con una vittoria Mamma mia che è il quarto Eheheh Perderato positivo Almeno Almeno Non c'è E' peggio essere quinti Che essere quarti O secondo O terzo Però Il primo Eheheh Lo Shrek Non ci supera Perché anche Qua il suo videogioco Mamma mia Due scorreggiate Con la super mazzata E scorreggio atomico Mamma mia Quanta bellezza Quanta bellezza Quanta bellezza E ho voglia di usare lui Con il mantellino verde No però Cambiamo anche un po' Begnazio ecco al cavolo ah sempre la eh vabbè quadrato triangolo tiriamo quadrato 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 tiriamo ah come c'era ecco uguale solo che con perché i tessi devono essere sempre gli stessi ma i combo sono verosimili ma sono diversi ma che ne so boh la maggior parte dei videogiochi è così ma mi chiedo il perché boh chi lo sa a parte che lo tu mi ha blu cappuccetta rossa magari perché è rosso e via dalle scatole tutti voi tutti voi stavano i mori e hai calci rodanti come scorpion di mortal kombat scuupete che male super mazzata super mazzata super mazzata raga super mazzata facciamo vedere ancora un minuto te ammazzo levatevi che sono ultra drogato scusa mi cazzo scusa mi cazzo basta che sei una aerea che è top gun sta cappuccio rosso e di morirea questa cappuccio rosso mamma mia super mazzata super mazzata super mazzata super mazzata comunque io sono il re e ho vinto io mamma mia mamma mia ma che cos'ho oggi questo gioco non lo so non lo so proprio cos'ho in questo gioco non so che sono ultra overpower non vorrei tanto battarmi però mamma mia tutte ste vittorie e niente ragazzi spero che anche questo video vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se vi va mandatele anche i miei video a qualche vostro amico poi anche meglio così almeno qualche iscritto in più anche qualche visualizzazione in più che mi piacerebbe tanto e mi piacerebbe anche appunto chiedermi che portare in Injustice uno o due o questo videogioco per di più anche me ne ho dimenticato altri due videogiochi e wrestling che poi vi porterò forse domani sul canale però sarà per gradi andiamo per gradi e poi e e poi anche vabbè sì il commento a parte quello vabbè le solite cose che vi chiedo però mi chiedo perché non le fate mai e mi chiedo il perché che ma no c'è un morto pognolo almeno fatemi questo favore che mi piacerebbe tanto tanto anche appunto gli iscritti anche quelli che già me seguono già i primi iscritti eh almeno anche voi le prego fa almeno eh tornate spero il più possibile sul mio canale a parte il fatto che eh dai così almeno qualche visualizzazione in più mi parebbe anche tanto comodo non è che io mi arrabbio però la cosa un po' mi fa disperare nonostante poi i miei 82 iscritti piacerebbe anche portando mi piacerebbe proprio andare oltre eh appunto e questa è proprio una cosa davvero importantissima una cosa davvero importantissima per me mi parebbe tanto piacere e comunque sia io spero tanto davvero che questo video vi sia piaciuto e ditemi però cosa ne pensate questo gioco e poi e poi noi ci vediamo forse domani non si sa ma spero tanto domani alla prossima o domani ciao questo qui se neca ancora piagna e questo qui ancora balla ma che cacchio te balli mi mostra rispetto per gli altri vabbè te ne affanculo va